10 gennaio Como, primo bacino 1.10-20 Iniziamo la nostra avventura Il lago è una favola Siamo sui 50 metri Sembra che ci siano dei passaggi sollevati dal fondo Adesso andremo a vedere cosa c'è Questo è il nostro Un zoom fondale di 50 metri Abbiamo passaggi a 40 metri circa Però mi sa che non ci sono lavarelli quelli che cerco Dopo andremo a mettere uno zoom Siamo a 52 metri 9-53 Temperatura 7-4 Questo rumore che si sente sottofondo È l'aliscafo Cuglielmo Marconi A tutta manetta A 300 metri dal porto Sta andando a tutta manetta Facciamo un po' di movimenti Col cimino Vediamo magari di attirare qualcosa Che c'è nelle vicinanze Non si vede dalle Il primo pesce ha boccato E tira anche abbastanza benino Probabilmente è un coregone Quasi sotto la barca Il primo moschettone c'è Abbiamo 30 centimetri giusti giusti Posizionato a alto per il zoom E visto che non abbiamo Movimenti di beccheggio Il fondo è perfettamente piatto Non ci segno proprio di vita Sembrerà Però abbiamo Incannato il secondo pesciolino E nonostante l'ottopeo Non si è visto assolutamente nulla Questo sembra tenace E anche lui sono 31 centimetri Non so se si riesce a vedere Ma sono 31 centimetri Sono una boccata Sono le 12,5 Magari quel pesciolino che ha boccato Non ci ripensa E viene ad aboccare un'altra volta Era un po' difficile Perché di frenesia alimentare Oggi qua Che ne bocca Un po' come andare a cercare Un agono in Pagliano L'acqua è troppa I pesci sono troppo pochi Eccolo qua Ecco Beccato la boccata Durante la diretta Ma vedi anche piccolo piccolo questo Ehi Ah che piccolo Ah che piccolo Ah che piccolo Ehi Ah la peppa Ah che magari L'ho preso per la coppia E fuori Questo qua Non è a misura E' 28 Scarsi Lo lascia montare Il quarto pesce Mi sembra che Tiri un pochino Speriamo Quello di prima Ce l'ho andato Ce l'ho mangiato I gabbiani 27 centimetri Spanciato Non è riuscito a recuperare A raggiungere E' un bel 32 Vediamo se riusciamo Con un po' di fortuna A registrare Una boccata A 2.20 Dopo oltre un'ora e mezza Di totale assenza Di boccate Come spesso succede Manca l'attenzione Tirata terribile Persa la boccata Ecco 1, 2, 3 Vi ho terminato di pescare Sta venendo Un po' di areta fresca E' meglio Non Non azzardare troppo Il lago si è increspato Leggermente L'aria bella fresca Ci siamo divertiti 4 pesci Di cui 3 a misura Uno piccolino Come di consuetudine L'unico che fa l'apertura Il corregone Come tutti gli anni Ed è la quarta volta Che sono da solo Ho utilizzato un cannino Pescato tutto il giorno Con un cannino Prima volta in assoluto E ho utilizzato Questa imitazione Sono praticamente Dei tube buzzer Neri Con riflessi blu Ci siamo divertiti Adesso andiamo a casa Grazie Grago Grago